È stato bello, è stato proprio bello, divertentissimo, ancora non mi rendo conto del casino che abbiamo combinato, però è stato un gran bel casino. È ancora troppo vivo il ricordo delle grandissime emozioni vissute alle Paralimpiadi di Rio e anche grazie all'oro vinto quasi passeggiando, oltre alla sua storia di vita, oggi Bebe Vio è un esempio un po' per tutti. La cosa che mi fa più piacere è quando vedo i bambini che mi guardano ancora per dire oddio anche io voglio fare quello che ha fatto lei ed è la cosa che vuole di tutto. E per dare la possibilità a molti altri ragazzi di diventare eroi anche nella sfortuna, Bebe e i suoi genitori hanno dato vita alla Onlus Art for Sport a cui oggi Pink Run ha consegnato un assegno di 26.500 euro, parte del ricavato raccolto alla corsa benefica dello scorso 8 maggio. Lo scopo è quello di dare protesi, carrozzine, stampelle, tutti gli ausili che possono servire a un ragazzo amputato per poter praticare lo sport che piace. Oltre 5.000 partecipanti per una corsa tutta al femminile che nell'ultima edizione ha battuto ogni record. Sport e solidarietà, un connubio che spesso da vita ha risultati straordinari. Abbiamo avuto più di 5.300 donne che hanno partecipato, che hanno sentito proprio la partecipazione e direi insomma tante grazie a tutte queste Pink Amiche come vengono chiamate. E altri 26.500 euro sono stati donati a Cometa Asme, l'altra associazione beneficiaria che si occupa dello studio delle malattie metaboliche ereditarie. E anche in questo caso a fare da testimonial una grande donna del nostro sport, Manuela Levoratto, giunta in compagnia di due giovani promesse. Ho portato nell'occasione anche i miei due gemelli perché anche loro hanno fatto questi 9 chilometri in mezzo a questa fantastica fiumana di rosa. E credo che sia un'esperienza che farò tutti gli anni, meravigliosa.